Cari amici, ho un interrogativo. Chi è un intellettuale in Italia? E sottolineo Italia, perché essere intellettuali in Italia è un discorso estremamente molto complesso, molto più articolato e forse molto più opportunista. Mi spiego. L'intellettuale, a mio avviso, è una persona che ha una grande cultura, ha una inesauribile sete di conoscenza, ha un'apertura mentale che non è bloccata da nessuna barriera ideologica, ma tende con tutto se stesso e con tutto il suo bagaglio culturale e di conoscenza alla ricerca continua della verità. Quindi un vero intellettuale, a mio modo di vedere, è una persona che non è condizionato da alcuna sovrastruttura. L'intellettuale in Italia, invece, basta guardarsi intorno, è un qualcuno il quale, pur avendo questa sete di conoscenza, pur avendo una certa preparazione culturale e anche un desiderio di ricerca della verità, però ingabbia tutto o condiziona tutto all'adesione o meno ad una certa parte ideologica, ad un certo partito politico, ad un certo gruppo di tendenza politica. E allora che cosa succede? Succede che l'intellettuale in Italia o appartiene all'orticello X o appartiene all'orticello Y, esiste una sorta di partitocrazia degli intellettuali ed esiste, di conseguenza, secondo la loro logica, una sorta di partitocrazia della cultura. Capirete che di fronte a queste due realtà, se io non ragiono secondo lo stile dell'intellettuale italiano, sono un essere da guardare con molta circospezione, anzi, da cercare di fare in modo di tenere ai margini della realtà culturale di questo paese, semplicemente perché ha il coraggio di andare continuamente alla ricerca della verità, qualunque essa sia, purché naturalmente provata che sia una verità, di fronte ad altri i quali non sono altro che abituati a genuflettersi e ad aggrapparsi al carro di questo o di quel vincitore. È molto difficile fare l'intellettuale come lo sto facendo io, ed è anche altrettanto difficile gestire una piccola casa editrice indipendente come la mia che segue questa logica e questa onestà intellettuale. Mi ci scontro tutti i giorni perché è molto difficile operare in una realtà in cui se tu non ti adegui ad essere parte di un carro di destra, di sinistra, di centro o di dove vogliamo metterlo, ma sei semplicemente indipendente, vieni assolutamente e costantemente emarginato e devi sgomitare a destra e a manca per cercare di mostrare quello che tu stai facendo. In questo momento ho un esempio lampante di quello che sta accadendo e spero che non accadrà. In questo momento io sto per uscire con un libro, pensate, su Che Guevara e sto per uscire con un libro che dice di Che Guevara, però documentandolo puntualmente, tutto l'opposto di quello che è stato detto sino ad oggi su di un personaggio che è stato mitizzato, che è stato considerato un eroe assoluto, che è entrato nell'immaginario collettivo di tutta una certo mondo politico e anche giovanile, eccetera, con un volto. Ed invece io mi ritrovo a proporre in libreria documentatissimo un volume che mostra che il suo volto non era così perfetto, che Che Guevara non era quel grande mito, non era quel grande eroe e non era quello stinco di santo che è stato dipinto sino ad oggi. È noto una certa resistenza da parte di librai, da parte di catene di librerie, a cercare di diffondere e prenotare questo libro. Io a questo punto mi fermo qui, dico semplicemente che bisognerebbe cominciare a fare un'analisi molto precisa di quello che vuol dire essere intellettuale in Italia, su quella che è la vera libertà di espressione in Italia, su quello che dovrebbe essere il vero ruolo delle librerie e delle catene delle librerie in Italia, che non dovrebbe essere un ruolo in cui un prodotto libro deve subire una specie di imprimaturo o di timbro di prodotto che è in linea con una certa matrice politica, ma dovrebbe essere un luogo in cui si offre al pubblico qualsiasi sfaccettatura di quella che è la produzione editoriale italiana. Mi fermo qui, aspetto delle risposte, aspetto qualche battuta per poter proseguire, magari attraverso una serie di video, questo dibattito su chi cos'è l'intellettuale e su questa sorta di censura strisciante che esiste da anni nei confronti di chi vuole muoversi in assoluta libertà e in assoluta indipendenza culturale nel mondo editoriale oltre che nel mondo culturale. Alla prossima! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS